Ormai il Bitcoin è sulla bocca di tutti, anche perché ha battuto record su record negli ultimi mesi. La domanda che sta diventando sempre più frequente all'interno di questo ambito è dove arriverà il Bitcoin? Il prezzo del Bitcoin raggiungerà valori stellari, addirittura superando la Luna e arrivando verso Marte ad un valore che alcuni ipotizzano anche addirittura di 100.000 dollari o si disperderà nel nulla come è accaduto nella precedente fase del Bitcoin tra il 2017 e il 2018? Beh, per capirlo bisogna vedere un po' di tematiche che snoccioleremo proprio oggi ma prima di fare ciò bisogna chiedersi dove posso comprare Bitcoin? Beh, io lo sto facendo utilizzando l'app Crypto.com che è anche lo sponsor di oggi. Crypto.com è un exchange di criptovalute, quindi praticamente un mercato nella vostra app dove poter comprare e vendere criptovalute. Infatti non esiste solo il Bitcoin ma ne esistono decine di criptovalute addirittura all'interno di Crypto.com esistono più di 90 criptovalute e la cosa figa di Crypto.com è che è super intuitivo, semplice in italiano e denominato anche in euro quindi si possono fare transazioni in euro cosa che rende anche molto facile la comprensione delle dinamiche dei prezzi e valutare in maniera più precisa come intervenire nel mercato. Con pochi e semplici passi posso acquistare dei Bitcoin con i miei euro e poi successivamente acquistare Ethereum con i Bitcoin precedentemente acquistati quindi si possono acquistare delle criptovalute con altre criptovalute questa è un'altra cosa molto figa di Crypto.com che come vi dicevo è un exchange di criptovalute quindi posso non solo acquistare criptovalute con degli euro ma posso acquistare delle criptovalute con altre criptovalute e quindi così potete costruire il vostro portafoglio di criptovalute ho anche un codice sconto per voi e cioè Whatsapp Economy infatti se aggiungete questo promo code durante l'iscrizione in app potrete ottenere 25 dollari bonus se però attiverete anche la carta di credito che è un'altra cosa figa di Crypto.com praticamente queste carte vi permettono di pagare le transazioni anche dal tabacchino tramite il vostro portafoglio di criptovalute se ne volete sapere di più come al solito link in descrizione e così potrete comprare le vostre criptovalute in tutta tranquillità utilizzando proprio Crypto.com ma il problema che si pone come faccio a comprare se non so come andrà la storia dei Bitcoin e delle criptovalute in generale è un argomento di cui ci occuperemo proprio oggi ovviamente con la premessa che non so assolutamente se il prezzo del Bitcoin salirà fino a 100.000 dollari o arriverà fino a zero se lo sapessi sarei l'uomo più ricco del mondo però possiamo fare qualche tipo di spugolazione infatti chiedendoci che valore ha il Bitcoin? a questa domanda alcuni potrebbero rispondere beh il valore è di 37.000 dollari ad esempio cioè il prezzo del Bitcoin in realtà non è proprio così infatti c'è una distinzione bella grande tra valore e prezzo di un oggetto prendiamo ad esempio l'acqua e i diamanti l'acqua è fonte di vita è un elemento essenziale per l'essere umano e quindi è un valore estremamente elevato eppure il prezzo è estremamente basso infatti basta andare al supermercato per comprare con pochi centesimi un litro d'acqua al contrario il diamante il diamante praticamente è una cosa del tutto superflua per la continuazione della vita sul pianeta eppure ha un prezzo pazzesco perché avviene tutto ciò? quindi da questo esempio un po' banale si può capire come valore non è sinonimo di prezzo come molto spesso si fa nel linguaggio comune alcuni pensano che il Bitcoin abbia valore in quanto è soggetto a dei costi di produzione infatti io compro degli hardware e consumo energia elettrica per poter minare questi Bitcoin e visto che io ho dei costi allora questi costi generano anche il valore dei Bitcoin questa è una tesi che ho letto addirittura anche nei commenti sotto ad alcuni miei vecchi video dove parlavo dei Bitcoin purtroppo però questa tesi è tanto vecchia quanto ormai sbagliata infatti addirittura Adam Smith nel 1700 quando si chiese proprio perché c'è questa differenza tra il diamante e l'acqua fece una distinzione tra valore d'uso e valore di scambio e poi da lì derivò la sua tesi sul valore per cui i prodotti hanno un valore derivante dal loro costo di produzione in realtà andando avanti col tempo e con la ricerca economica si è visto che questa tesi che il valore deriva dal costo di produzione è sbagliata altri invece mi potrebbero dire che il valore dei Bitcoin deriva dal tempo speso dei miners a minare i Bitcoin i miners sono delle persone che appunto producono i Bitcoin tramite una serie di calcoli e algoritmi anche questa tesi in realtà è tanto vecchia quanto sbagliata infatti successivamente al tentativo di Adam Smith di distinguere tra valore di utilizzo e valore di scambio e di derivare il valore di scambio dai costi di produzione ci fu anche Riccardo che derivò il valore di un bene non più dai costi di produzione ma la quantità di lavoro all'interno di quel bene e quindi di conseguenza parallelamente della quantità di lavoro dei miners nel produrre un singolo Bitcoin per capire quanto la concezione di valore di Adam Smith e di Riccardo che poi possiamo vedere anche in quanti molto spesso assumono il valore del Bitcoin se i Bitcoin pari al costo di produzione del Bitcoin o al tempo speso per produrre un Bitcoin siano false basta riprendere l'esempio di prima cioè quello del diamante e dell'acqua come noi sappiamo il costo di produzione e il tempo per lavorare un diamante è molto elevato rispetto a quello di una bottiglia d'acqua però noi non stiamo considerando anche il contesto in cui si svolge questa cosa qui se infatti prendiamo una bottiglia d'acqua e un diamante in una città e li trasferiamo nel deserto il costo di produzione è più o meno simile se escludiamo il costo di trasporto che è uguale per i due beni ma il valore è sempre lo stesso? sono sicuro che nel deserto il valore dell'acqua sarà molto più alto rispetto a quello del diamante ed ecco smontata l'idea di Adam Smith e di Riccardo per cui il valore deriva o dai costi di produzione oppure dalla quantità di lavoro all'interno di quel prodotto quindi abbiamo sfatato il mito per cui il bitcoin vale in quanto ha dei suoi costi di produzione andiamo avanti perché alcuni pensano che il bitcoin abbia qualche tipo di valore in quanto è un prodotto scarso e fanno molto spesso riferimento al fenomeno dell'halving andiamo a vedere cos'è abbiamo già spiegato che il numero di bitcoin che possono essere prodotti è limitato a 21 milioni e che questa cifra verrà raggiunta all'incirca verso il 2100 però il tasso di produzione dei bitcoin è variabile e lo definisce l'algoritmo stesso infatti ogni 4 anni la capacità di produzione dei bitcoin si dimezza se infatti prima del 2012 potevano essere prodotti 50 bitcoin ogni 10 minuti dopo il 2012 potevano essere prodotti 25 bitcoin ogni 10 minuti dopo il 2016 ci fu un altro halving che in inglese significa dimezzamento e quindi tra il 2016 e il 2020 potevano essere prodotti 12,5 bitcoin ogni 10 minuti dall'anno scorso i miners possono produrre 6,25 bitcoin ogni 10 minuti quindi la teoria dell'halving cosa ci dice? che più il bitcoin diventa difficile da coniare più il bitcoin diventa scarso e quindi pongono una relazione tra scarsità del bitcoin e il valore del bitcoin quindi sostanzialmente affermano che più passa il tempo più il valore aumenta in quanto il bitcoin diventa scarso a causa dell'halving e quindi il prezzo andrà sempre più in alto ora in realtà noi saremmo già capaci di sfatare questo mito dell'halving e la relazione tra scarsità e valore del bitcoin con l'esempio di prima infatti prima un litro d'acqua e il diamante sono scarsi nel deserto in ugual modo eppure il valore è completamente diverso tra una bottiglia d'acqua che ti può dissetare e un diamante che nel deserto non ci può fare praticamente nulla ma io questa cosa dell'halving la voglio sfatare completamente anche se già sento le urla di disperazione dei più fanatici dei bitcoin che molto spesso abbracciano anche questa tesi dell'halving andiamo per ordine quante volte si è detto che i bitcoin sono una moneta ora qui su whatsapp economy sappiamo che questo non è vero ma assumiamo per questa volta che i bitcoin è una moneta come si fa a calcolare il valore di una moneta o lo so in rapporta con altre monete oppure si fa a vedere quanto è il suo potere d'acquisto e cioè quanto un'unità di questa moneta può acquistare beni o servizi ma in economia succede qualcosa di molto curioso infatti se al momento 0 la moneta ha un potere d'acquisto X al momento 1 la moneta potrebbe avere un potere d'acquisto diverso cosa succede allora? al momento 0 gli agenti economici fanno tutta una serie di scelte economiche per ripararsi dei cambiamenti che avverranno in quel momento preciso nel futuro e quindi alla fine succede che il potere d'acquisto che io mi aspetto nel momento 1 va a determinare anche il mio potere d'acquisto al momento 0 questo fenomeno viene chiamato aspettative di inflazione perché vi ho parlato di tutto ciò? perché se ci pensiamo bene il giochino delle aspettative di inflazione è molto simile a quello dell'halving anche nell'halving succede che tra 4 anni io so già che la capacità del bitcoin di riprodursi viene dimezzata e quindi la scarsità aumenta e di conseguenza il valore secondo questi aumenterà e quindi anche il prezzo ma la differenza sostanziale tra i due approcci è che le aspettative di inflazione cambiano nel tempo in base al contesto odierno se ad esempio il paese cresce più del previsto oppure in base alle dichiarazioni della banca centrale europea le mie aspettative di inflazione cambiano mese dopo mese e in base a come cambiano le aspettative di inflazione io agisco adesso per adeguarmi all'inflazione futura invece nel giochino dell'halving è tutto già scritto so già che tra 4 anni cioè nel 2024 la capacità di generazione del bitcoin verrà dimezzata e so già anche che verranno prodotti al massimo 21 milioni di bitcoin e quindi la domanda è perché io correlo il valore del bitcoin alla sua capacità di riproduzione se io so già come e quando avverrà questa capacità di riproduzione se questa teoria dell'halving fosse vera allora dovrebbero accadere due fenomeni il primo o già nel 2008 il valore del bitcoin doveva essere estremamente elevato in quanto si sapeva già che il bitcoin diventava sempre più scarso oppure invertire la teoria dell'halving che ci dice che il valore del bitcoin e quindi il prezzo aumenta dopo ogni singolo halving in quanto io so già che l'halving avviene so già che il bitcoin diventerà scarso e quindi è stupido comprare dopo che avviene l'halving io per mettermi al riparo da questa scarsità compro prima dell'halving proprio come avviene nelle aspettative di inflazione nelle aspettative di inflazione io so già che il valore della moneta diminuirà e quindi io mi adopero già adesso per proteggermi da quell'evento e quindi dovrebbe avvenire lo stesso fenomeno nei bitcoin e quindi l'aumento di prezzo dovrebbe avvenire prima dell'halving e non dopo ok spero di non aver infranto troppi cuori dopo aver sfatato per ben due volte questo mito dell'halving che mi lascia alquanto perplesso e che non dà una giustificazione valida per l'aumento del prezzo dei bitcoin ma allora qual è la risposta che ha dato l'economia per quanto riguarda il valore di un bene e poi in conseguenza il prezzo relativo di quel bene bisognerà aspettare il 1800 e Alfred Marshall che è il padre della microeconomia e con il concetto dell'utilità marginale l'utilità marginale sposta il concetto di valore dal costo di produzione al desiderio della persona di ottenere quel bene un concetto che ad oggi è abbastanza banale ma ai tempi di Marshall fu qualcosa di rivoluzionario ma il valore non è determinato dalla soddisfazione totale che ci dà quel bene bensì ci dice Marshall che il valore deriva dalla soddisfazione che ci dà l'ultima unità dello stesso bene che noi siamo disposti a comprare da qui la definizione appunto di utilità marginale cioè al margine con questo concetto abbiamo una risposta al dilemma del deserto, del litro d'acqua e del diamante infatti se in città l'acqua è molto diffusa e quindi la nostra utilità marginale è molto inferiore siamo disposti a pagare un prezzo molto basso al contrario nel deserto l'acqua ha un valore molto più alto perché l'ultima goccia di acqua ci soddisfa in maniera molto grande e quindi il prezzo di conseguenza che se noi siamo disposti a pagare aumenta ma non è tutto in quanto se esiste la soddisfazione del consumatore esiste anche la soddisfazione del produttore se noi andiamo ad incrociare queste due soddisfazioni creiamo un punto di incontro e da qui nasce la famosa legge dell'incontro tra domanda e offerta e proprio da questo incontro nasce poi conseguentemente il prezzo che è una rappresentazione del valore del bene abbiamo finalmente capito la teoria del valore ma allora qui dobbiamo chiederci quale sia l'utilità marginale cioè la soddisfazione delle persone nel voler comprare i bitcoin beh è qui la spiegazione per cui le persone sono spinte a comprare i bitcoin è molteplice c'è chi compra i bitcoin per un motivo del tutto ideologico in quanto è contrario a una finanza del tutto centralizzata da delle banche centrali c'è invece chi compra i bitcoin perché pensa che questo strumento sia molto più utile nel preservare la propria ricchezza al contrario delle moneta classica che come sappiamo è inflattiva e quindi col tempo perde valore c'è chi li compra perché è convinto che sarà la moneta del futuro cosa su cui io ho molti dubbi e c'è infine chi spera di generare un profitto comprando i bitcoin quindi sostanzialmente speculando nei confronti di questo asset finanziario ma tutte queste motivazioni che spingono le persone a comprare i bitcoin generano anche dei valori completamente diversi l'uno dall'altro e quindi come racchiudere tutto questo caos in un unico teoria che possa rappresentare al meglio il valore del bitcoin io personalmente ne ho trovata una che mi soddisfa particolarmente anche se qui le opinioni sono tra le più disparate quindi ci può essere qualcuno che non è d'accordo c'è una teoria che si chiama la Metcalfe's Law che serve per valutare il valore di un network e cioè le interconnessioni che si generano o tra più persone oppure tra più dispositivi per capirci che valore ha Instagram se lo posseggo solo io? ovviamente nulla ma la Metcalfe's Law ci dice che il valore di un network equivale ad n quadro con n sta a indicare il numero di dispositivi connessi oppure di persone connesse in questo caso dei social Instagram ha tanto più valore quante più persone sono connesse all'interno dello stesso social allo stesso modo i bitcoin non valgono nulla se non vengono accettati come uno strumento finanziario o in alcuni casi anche monetario invece acquisiscono valore se ci sono sempre più persone che vedono quello strumento come un'alternativa utile a fare determinate cose esiste anche uno studio che ha messo a rapporto la Metcalfe's Law con il prezzo dei bitcoin e ha trovato una correlazione molto forte tranne per un periodo ben preciso infatti questa teoria riesce a spiegare il valore del bitcoin nel medio-lungo periodo e non riesce a spiegare le fluttuazioni intermedie ma alla fine è quello che conta perché alla domanda dove arriverà il bitcoin ovviamente si sta a indicare qual è il valore di medio-lungo periodo che raggiungerà il bitcoin quindi a noi questo ci serve e questo strumento è molto utile rispondere a quella nostra domanda e se torniamo nel pratico fin da ottobre 2020 vediamo come dopo le dichiarazioni di Paypal e poi di altre istituzioni finanziarie molto solide che hanno deciso di investire in bitcoin vediamo anche come il prezzo sia aumentato il fatto che appunto ci testimonia quanto la Metcalfe's Law ci possa essere utile a capire l'andamento del bitcoin nel medio-lungo periodo in quanto proprio lì avvenne che numerosi player anche molti importanti entrarono nel network di bitcoin non per ultimo il fattore Tesla che ha deciso di entrare anche lei nel mondo di bitcoin e in questo caso il prezzo e in conseguenza anche il valore del bitcoin è aumentato molto qui ci potrebbe essere una contestazione in quanto ho parlato di network di accettazione di uno strumento finanziario e allora qualcuno mi potrebbe citare cosa che è stata fatta molto spesso lo schema Ponzi e cioè praticamente qualcuno potrebbe dirmi e allora quindi stai dicendo che i bitcoin sono uno schema Ponzi in realtà lo schema Ponzi funziona in maniera completamente diversa infatti affinché uno schema Ponzi funzioni la quantità di persone che devono entrare all'interno del network deve essere costante e una volta che questo network non riesce più a far entrare persone allora si sgretola però ovviamente questa cosa nel bitcoin non avviene in quanto il network può rimanere costante nei suoi utenti all'interno eppure il prezzo può rimanere a dei valori molto alti se all'interno del network ci sono molte 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 persone quindi in sostanza il bitcoin potrebbe arrivare a 100.000 dollari? la risposta è sì secondo me se il network dei bitcoin diventerà sempre più grande e sempre più solido uno dei problemi che potrebbe nascere con questo aumento del network è il fatto che più lo strumento diventa diffuso e più aumentano le pressioni nei confronti dei regolamentatori per per l'appunto regolamentare questo strumento che attualmente non è regolamentato a quel punto le ipotesi potrebbero essere due o il bitcoin verrà ufficialmente regolamentato e di conseguenza anche prevedo anche che la sua volatilità diminuirà fortemente quindi magari perderà anche un certo appeal perché come abbiamo detto molti investono nei bitcoin proprio per farci soldi e se la volatilità diminuisce la possibilità di fare soldi anche essa diminuisce oppure caso opposto i regolamentatori bannano bitcoin come uno strumento finanziario disponibile per tutti a quel punto probabilmente ci potrebbe essere un forte ridimensionamento del network e quindi di conseguenza del valore del bitcoin e alla fine anche del prezzo del bitcoin in futuro e quindi ragazzi il percorso è stato lungo, faticoso ma vi ho spiegato in maniera molto breve la mia visione riguardo il mondo dei bitcoin e riguardo il valore dei bitcoin e grazie a questa mia visione opero anche all'interno dell'app crypto.com che come vi ricordo è lo sponsor da dove io poi vado a acquistare, comprare e vendere le mie criptovalute il codice sconto è Whatsapp Economy e come vi ho detto l'app è sicuramente valida spero di non avervi annoiato troppo lo so che in alcuni punti magari è stato un argomento un po' ostico però sì, se ci sono domande, dubbi o addirittura delle contestazioni giù nei commenti sperando sempre di mantenere una discussione pacata detto ciò vi saluto e ci vediamo al prossimo video ringrazio per ultimo anche gli abbonati belli siete alla prossima ringrazio per la mia visione